Lunedì sera prenderà il via un ciclo di quattro puntate dedicate ad eventi e personaggi della nostra città che appartengono al passato. Conduttore di questa nuova trasmissione che ha per titolo Città come te, prendendo lo spunto da un testo di Ettore Alinghieri, è Enrico Colombo. Ma vogliamo da lui qualche anticipazione. Beh diciamo che era un progetto che avevamo in mente da molto tempo io e l'avvocato Alinghieri e che con la partecipazione tecnica molto utile del nostro tecnico validissimo è stato un momento di riflessione. Siamo ritornati indietro nel tempo per dare anche vivacità, figura e rappresentanza a questi personaggi di cui si sente tanto parlare a volte nei salotti, nei ricordi, nei convegni. E invece noi abbiamo cercato di farli rivivere attraverso la testimonianza di questo libro Città come te che è la testimonianza appunto sei tu che fai la città, sei tu che vivi la città. E perché dimenticarla? Non è certo giusto. E qua ci sono molti personaggi qua. I francesi. Vogliamo citare qualcuno? Abbiamo iniziato questo percorso dal vecchio posto dove si giocava, a quei tempi si giocava, c'era questa affluenza di uomini, di persone, di intellettuali, di giocatori d'azzardo. E anche di questa mala che aveva una certa nobiltà. E quindi, non so, tanto per dare qualche esempio, Renato Cogliolo, che tutti non ricordano, ma era un personaggio meraviglioso, filosofo, letterato, scienziato, astrologo, che preparava le tesi di tutte le argomentazioni che gli venivano proposte per gli studenti. Avremo poi Giancarlo Fusco, Giancarlo Fusco lo potremmo definire genio del racconto, dell'Elzivirro, personaggio che amava Spezia in modo viscerale proprio. Poi avremo, non so, Gino Patroni, che è l'emblema del caustico, dell'osservatore, ma dell'amante della città, un lirico, inventore, paradossale, ma illuminato. Colombo, quando andranno in onda queste puntate? Cominceremo la prossima settimana, naturalmente, e andranno in onda il lunedì alle 21.20, il martedì alle 23.30 e il mercoledì alle 19.00. Allora scopriamo questa città e consegniamola ai nostri giovani perché è giusto che la conoscano.